Il Piano di Rionda 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 Le cartelle cliniche apparterebbero prevalentemente a malati di neoplasie polmonari. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani mentre i carabinieri hanno avviato le indagini. E ancora un'altra violenza sui mezzi Antab ai danni di un autista ma il primo cittadino non si ferma e annuncia le nuove telecamere. Serena Russo l'ha intervistato per noi. Un pugno in pieno volto per aver difeso due ragazze in difficoltà. La vittima ancora una volta, la terza in poco più di due settimane, un autista Antab. È successo ieri in tarda serata sulla linea 13 che collega il centro cittadino al quartiere San Paolo. All'altezza di Vio Bruno Buozzi, l'autista che già aveva invitato due ragazzi, entrambi maggiorenni, a lasciare in pace le vittime, le ha prese di santa ragione. Portato poi in ospedale, ne è uscito con un edema all'occhio e alcuni lividi. Spavento a parte. È già stato in questura per la denuncia. L'ho chiamato per ringraziarlo, ha detto questa mattina il sindaco Antonio De Caro, e anche, aggiunto, per ringraziare quei cittadini che lo hanno aiutato. Nessun danno serio, comunque, ma il dato è incontrovertibile. Quello della violenza e danni di autisti e verificatori è un fenomeno che non accenna a diminuire, nonostante i video, nonostante le minacce e nonostante la maggiore presenza delle forze dell'ordine, almeno sulle linee ritenute qui a rischio. Chissà che le telecamere di videosorveglianza, che saranno installate sui mezzi a partire dal 29 febbraio, non possano servire da deterrenti, due su ogni bus. La prima puntata sul posto guida, l'altra invece all'ingresso. Già montate le scatole nere, che al momento però servono per lo più, in caso di sinistri, e i pulsanti di emergenza. Ancora una volta un gruppo di balordi, maggiorenni, hanno usato violenza nei confronti di un autista dell'AMTA, che stamattina ho chiamato e ho ringraziato a nome della città, perché nonostante le indicazioni dell'azienda impongono agli autisti di avvisare le forze dell'ordine, così come ha fatto, comunque per difendere un ragazzo e una ragazza presenti sull'autobus, ha lasciato la guida dell'autobus e si è frapposto tra questi balordi e questi ragazzi che viaggiavano sulla linea 13. Devo dire che l'autista, per fortuna, è stato aiutato anche da alcuni cittadini sull'autobus stesso. Noi dal 29 cominciamo a montare le telecamere all'interno dell'abitacolo e anche all'esterno dell'autobus stesso. Lo facciamo su tutti gli autobus, costruiremo una sorta di scatola nera, quindi dal 29 avremo la possibilità di registrare tutto quello che accade all'interno del bus e credo che questo funzionerà come deterrente nei confronti di queste persone. Si parlava anche di un pulsante per l'emergenza, se non sbaglio. È inserito il pulsante per l'emergenza all'interno di questa scatola nera. Questi giorni comunque le forze dell'ordine sono a disposizione degli autisti, anche ieri le forze dell'ordine sono arrivate però si erano già allontanati. Lavori pubblici, l'assessore al ramo Giuseppe Galasso rende noto che cominceranno a breve i lavori per la realizzazione di una rotatoria in prossimità di Largo Don Franco Ricci di fronte alla chiesa di San Marcello in corrispondenza dell'incrocio tra Via Re David, Viale di Vittorio, Via Fanelli e Via Orabona. Si tratta di un vecchio progetto esecutivo redatto internamente dai tecnici della ripartizione infrastrutture e viabilità opere pubbliche e sbloccato nei mesi scorsi con la pubblicazione del bando di gara, a seguito del quale vi è stata l'aggiudicazione definitiva degli interventi. L'importo complessivo dei lavori che ammonta circa 260 mila euro prevede la demolizione e la ricostruzione dei marciapiedi in corrispondenza dell'area incrocio, la rimozione, lo spostamento di alcune alberature, lo smontaggio dell'impianto semaforico, lo spostamento di alcuni pali di pubblica illuminazione con conseguente ricollocazione in una nuova posizione e l'integrazione di nuovi pali, lo spostamento di alcuni pozzetti di fonia bianca, la nuova pavimentazione stradale su tutta l'area, la modifica e il rifacimento della segnaletica stradale. Intanto è stata presentata questa mattina la nuova agenzia giornalistica Corsivo 2.0, un contenitore di idee ma soprattutto uno strumento di dialogo e confronto politico. Sentiamo i dettagli nel servizio. Politica, lavoro, attualità ed economia. L'onorevole Giussi Servodio presenta la nuova agenzia giornalistica Corsivo 2.0, nome e progetto che richiamano la rivista nata nel 61 sotto la guida autorevole di Stefano Bianco, uomo politico e giornalista scomparso lo scorso settembre. E dal resto il Corsivo rappresenta una scrittura elegante e chiara che si stacca dal rigido rigore formale dello stampatello sin dal rinascimento, una scelta simbolica che ben esprime l'intento di realizzare una rivista il più facilmente leggibile, aperta a tutti e facilmente fruibile, come spiegato dallo stesso editore, onorevole Giussi Servodio. Vogliamo attraverso l'agenzia far circolare delle idee, delle idee innovative, delle idee di corresponsabilità, delle idee di partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. E oggi questa missione di far incontrare il dialogo e l'informazione sfrutterà anche i moderni strumenti del web attraverso il sito www.corsivo20.it senza trascurare la discussione vera e propria attraverso una serie di incontri. Il primo il prossimo 4 marzo su Decentramento e Municipi. Un intento che sarà portato avanti sotto la direzione di Stefano Campanella, già direttore responsabile di Teleradio Padre Pio. L'obiettivo che continua ad essere lo stesso è quello di creare una base sempre più ampia di discussione politica. Ovviamente le nuove generazioni che si stanno purtroppo allontanando per via della sfiducia che la politica trasmette vuole diventare uno strumento per coinvolgere i giovani e renderli protagonisti della politica. E sempre questa mattina i giovani democratici di terra di Bari si sono riuniti per il congresso cittadino all'ordine del giorno l'elezione del nuovo segretario di Bari Città. Secondo le ultime indicazioni le preferenze dovrebbero convogliare su Elietta Noviello, già consigliere municipale. I prodotti del territorio sono protagonisti del percorso multisensoriale del Gall Ponte Lama a immaginazioni percorribili visitabile nella splendida cornice di Palazzo Tuputi a Biceglie. Il servizio di Isabella Battista. La ciliegia, l'uva da tavola, l'olio d'oliva, la mandorla, il pescato e i dolci sono i prodotti che hanno ispirato numerosi videoartisti e fotografi per raccontare le storie di chi il mare e la terra gli amati e vissuti da sempre. Il progetto ideato da Piero Cosmai e affiancato da Francesco Gorgoglione e Piero Di Terlizzi ha proposto gli interventi adattati agli spazi espositivi di questo immobile recuperato dal comune di Biceglie. Noi abbiamo messo proprio in evidenza quelli che sono i nostri prodotti. Con questo si è concluso il primo passaggio. Quello che noi andremo oggi a scrivere con la prossima programmazione, l'idea di essere uniti, galle, gacche, è proprio prendere questo percorso appena conclusosi e rafforzarlo. Dalla terra al mare gli interventi scenografici e multimediali parlano di una Puglia caratterizzata da agricoltura, pesca, artigianato e la trasformazione dei prodotti dalla loro creazione alla commercializzazione. Immaginazioni percorribili vuole essere al fruitore del percorso multisensoriale un messaggio, ad immaginarsi quello che vive ripercorrendo le emozioni, le emozioni di quando uno di noi era bambino e le emozioni che vorrebbe avere nel futuro. Il percorso si sviluppa su tre livelli e si chiude a piano terra con una vetrina dei prodotti tipici del territorio, per toccare con mano i sapori raccontati nelle immagini in mostra. Ambiente, infrastrutture e sanità sono stati al centro del secondo appuntamento del ciclo di Next Topic, luogo di incontri dove gli opposti si attraggono. Vediamo. Ripensare la città attraverso la rigenerazione urbana, smart cities e nuove tecnologie. Sono queste le tematiche del Bosco Verticale, l'incontro organizzato ieri negli spazi del Teatro Margherita. Quattro di illustri interlocutori che hanno animato il dibattito di visibile versus invisibile. Stefano Boeri, Pino Bruno, Stefano D'Empoli e Alessandro Zerboni hanno intrapreso un viaggio attraverso le nuove tecnologie europee per confrontare la situazione italiana con le novità estere. Accento particolare sulla situazione barese con il waterfront e il ponte sull'asse nord-sud, interventi che segnano in maniera incisiva la città per aumentare la futura fruibilità urbana. Questo sforzo di riqualificazione ha dei costi superiori alla sostituzione, cioè alla demolizione e alla ricostruzione, soprattutto su tempi medio-lunghi. E poi teniamo conto che è un'operazione attenta, rispettosa della storia, dell'architettura e dei valori, ma da questo punto di vista è evidente che non possiamo permetterci di toccare nulla del nostro patrimonio artistico. Ma ripeto, stiamo parlando di altro. Ecco, un'operazione di sostituzione vuol dire anche lavoro. Lavoro per le piccole imprese, lavoro per le piccole imprese di lì, ma lavoro anche per le piccole imprese della creatività, lavoro per le piccole imprese degli arredi, lavoro per il mondo delle professioni. significa muovere una parte fondamentale delle nostre economie, per questo dico City Act. Lo dico perché credo davvero che sarebbe una sfida straordinaria e l'Italia è pronta per farlo. Roberto Giacobbo a Bari per illustrare i misteri del teatro Petruzzelli. L'incontro è stato organizzato dal Gioco dell'Otto in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli nell'ambito della tappa barese del gioco più tuo in tour. Vediamo com'è andata. Esso prende il nome di due ardimentosi fratelli che in un momento di genio vollero arricchire la regina delle Puglie in un monumento destinato a primeggiare tra tutti i teatri d'Italia. Da più tempo Bari vagheggiava l'erezione di un politeama. Comincia così leggendo l'articolo del pubblicista Paolo Anaclerio stampato il giorno dell'inaugurazione del politeama barese sul primo e unico numero dell'arte e la scena, il viaggio di Roberto Giacobbo, noto al grande pubblico per la conduzione del programma Voyager. Com'è nato il Petruzzelli? Cosa si nasconde dietro l'incendio che lo ha distrutto? E quali sono i suoi segreti? Con l'inconfondibile piglio con cui accompagna ogni viaggio alla ricerca di misteri perduti, il giornalista ha aperto ieri sera la tappa barese del gioco più tuo in tour, che per tre settimane trasformerà il teatro, simbolo della città, in un contenitore di cultura, arte e musica. Giacobbo, di sangue per un quarto pugliese, non nasconde le emozioni per il capoluogo che dice dovrebbe essere studiato molto di più. E si parte dal 14 febbraio 1903 con l'inaugurazione del politeama, frutto del lavoro di due abili venditori di stoffe, fino alla fatidica notte dell'incendio, tra il 26 e il 27 ottobre del 91. Alle tre del mattino le porte del teatro furono chiuse, appena un'ora dopo ne rimaneva ben poco. Il celebre conduttore si spinge con la telecamera fin nei luoghi meno accessibili del teatro, quelli solitamente nascosti al pubblico. Ne spiega il funzionamento, i meccanismi, la magia e, come sempre, spazio anche al mistero. Come la leggenda della stanza segreta, quella costruita in prossimità della cupola, aperta una sola volta da un dipendente del teatro, conteneva documenti importanti. Alcuni portavano la firma di Benito Mussolini, tutto scomparso la notte del grande rogo. Il percorso prosegue tra vecchie e nuove immagini, tra i nomi che hanno calcato le scene del Petruzzelli. Liz Taylor, Jerry Lewis, Frank Sinatra. Infine, un regalo a tutti i presenti, quell'articolo ormai introvabile con cui la serata è cominciata stampato su carta ingiallita. E poi i saluti finali, affidati al grande Alberto Sordi. E adesso le previsioni del tempo con il nostro esperto, il colonnello Vita Antonio Laricchia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un fine settimana al sapore, quasi primaverile. Si comincia con un sabato, con ampie schiarite di primo mattino, ma un rapido peggioramento per lo scivolamento di una veloce perturbazione atlantica che scorerà in particolare sulla fascia costa adriatica, dando temporali appunto sulla fascia adriatica stessa. Temporali sono previsti sul Gargano, sono previsti nelle province di Bari, Brindisi e Lecce e marginalmente anche quella di Taranto. Quindi per coloro che si andrà in gira fuori porta per sabato, anche ben coperti per forte vento di Maestrale che allontanerà molto velocemente questa perturbazione, però non sono escusi appunto acquazioni e temporali improvvisi, anche se le schiarite lo stesso ci allontaneranno ad annuvolamenti. Schiarite e ripeto ancora, rovesce temporali improvvisi. Forte vento di Maestrale, ma serve lui, l'amico Maestrale, per allontanare questo corpo nuvoloso. Ampie schiarite dalla serata nottata, notte stellata e di luna calante. Giornate di domani si parte appunto col vento di Maestrale che tenderà a calare, bella giornata di sole domenica, ombrelli messi ad asciugare e si andrà avanti così, poi tutta la giornata. Semana prossima avventura, annuvolamenti, schiarite, perturbazioni che passeranno ancora in una perturbazione atlantica, adesso martedì e mercoledì, ancora ombrelli aperti, poi messi ad asciugare giovedì e venerdì, ancora a riaprirli per sabato e domenica. Insomma, una situazione che d'inverno sa di poco, ma tanta tanta primavera e instabilità. Temperature flessanti, per esempio, prima mattina. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Grazie per essere stati con noi e a più tardi. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.